Buona serata, nuova edizione del tv giornale di Telestense. Tra le notizie di cui ci occuperemo questa sera vi mostreremo le immagini del presidente della regione Bonaccini, oggi a Ferrara. Bonaccini tra l'altro che non esclude la propria candidatura premier, ma sentiremo esattamente che cosa è stata la sua visita oggi nella nostra città. Ci occuperemo anche di nuove dieci regole, sane abitudini insomma che arrivano dalla regione per contrastare il coronavirus in questo periodo di fase 2 e di riapertura delle varie attività. Parleremo anche dell'operazione Movida Sicura che prende il via proprio questo fine settimana a Ferrara e poi vi mostreremo le immagini purtroppo dell'ultimo saluto al professor Gianni Cerioli. Oggi pomeriggio si è tenuto il funerale. Cominciamo subito però purtroppo da una drammatica notizia. Un operaio italiano di 60 anni di una ditta esterna è morto probabilmente folgorato oggi pomeriggio prima delle 14.30 mentre stava facendo lavori di manutenzione all'impianto elettrico di una cartiera a Mesola nel Ferrarese. È successo intorno alle 14.20. Sul posto i carabinieri e personale della medicina del lavoro. L'uomo originario di Portotolle è morto per arresto cardiocircolatorio ma per ulteriori dettagli bisognerà attendere l'autopsia. Intanto come anticipavo in apertura atteso e riatteso da 30 anni l'interramento della linea ferroviaria in via Bologna a Ferrara e quindi l'eliminazione del passaggio a livello è un cantiere che tra vari stop and go due settimane fa ha ripreso i lavori. Oggi la visita del presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che intanto ieri in una intervista non è escluso la possibilità di una sua candidatura a Premier. Sentiamo. Unificare in un'unica sede ferroviaria le due linee verso Codigoro e Ravenna Rimini per alleggerire la viabilità in via Bologna e in via Fabria Ferrara dove i due passaggi a livello creano da decenni code e disagi. In più grazie a questi lavori si potrà raggiungere l'ospedale di Cone in treno e poi completare la bretella su Zara Ravenna Rimini che interessa in modo particolare il traffico merci diretto soprattutto al porto di Ravenna attraversando anche il capoluogo estense. Questi benefici che dovrebbe apportare il completamento del cantiere da quasi 67 milioni di euro finanziato da regione, comune e rete ferroviaria italiana ripartito due settimane fa. Mercoledì mattina il presidente della regione Stefano Bonaccini ha effettuato un sopralluogo insieme al sindaco di Ferrara Lanfabri con loro gli assessori regionali Andrea Corsini e Paolo Calvano che è ferrarese e c'era anche l'assessore comunale lavori pubblici Andrea Mangi. Dopo la visita ai cantieri reggiani pochi giorni fa siamo voluti venire qui a Ferrara per questa linea Ferrara-Porto Maggiore un investimento complessivo di 90 milioni di euro questo stralcio ne vale complessivamente circa 40 con l'assessore Corsini i dirigenti, i tecnici di cantiere, il sindaco Lanfabri a verificare lo stato di avanzamento perché l'investimento sul ferro, mobilità alternativa all'uso della gomma e dei metri privati, ricucitura con la città per come il cantiere si sta sviluppando, ciclabili, insomma davvero un investimento che da un lato ha a che fare con la cosiddetta sostenibilità e dall'altro con far ripartire le lancette dell'economia perché cantieri, operai al lavoro, maestranze, insomma investimenti che sono all'altezza di quello straordinario piano di investimenti che dovremmo mettere in campo e che metteremo in campo. Intanto è di martedì questa frase di Bonaccini non mi vedo come candidato premier ma allo stesso modo non precludo nulla ci si mette a disposizione se si ha passione politica per migliorare la cosa pubblica questa è la risposta del presidente dell'Emilia Romagna a Bonaccini come riporta l'Ansa all'intervista di Marco Damilano che gli ha chiesto se si vedeva come candidato premier in futuro immaginando un'ipotetica sfida con il presidente del Veneto del partito della Lega Luca Zaia E torniamo sulla cronaca perché purtroppo dobbiamo registrare un altro decesso per complicazioni da Covid-19 si tratta di un codigorese di 76 anni con patologie pregresse e concomitanti ospite della residenza Alma di Codigoro circa un mese fa era stato ricoverato all'ospedale del Delta dove questa mattina è deceduto poco dopo le ore 6 l'aggiornamento quotidiano dei nuovi casi intanto riporta che nel ferrarese si continuano a registrare 0 nuovi casi e 0 anche a Ravenna, a Forlicesena e a Imola 16 invece i casi in più rispetto a ieri in regione una curva comunque epidemiologica che si sta abbassando sempre di più e parliamo adesso di una bella notizia che arriva dall'università si chiama Diego il ventilatore d'emergenza dal costo confrontabile a quello di un telefonino di fascia media realizzato in Italia grazie alla collaborazione fra l'Università di Ferrara e l'Istituto Italiano di Tecnologia già stato sperimentato su paziente e notificato al Ministero della Salute potrà essere utilizzato anche nei paesi in via di sviluppo per i quali è difficile accedere a dispositivi medici sofisticati il dispositivo è nato da un'idea anche del fisiologo Luciano Fadiga dell'Università di Ferrara e è direttore del centro di neurofisiologia traslazionale dell'Istituto Italiano di Tecnologia positivi primi test sui pazienti condotti nel reparto di chirurgia dell'ospedale di Ferrara diretto da Paolo Carcoforo al momento è l'unico respiratore inventato in Italia sottoposto al Ministero della Salute per l'emergenza Covid-19 e sta iniziando il percorso normativo per poter essere certificato e adesso invece come anticipato in apertura parliamo dell'assessore regionale delle politiche per la salute Raffaele Donini che ha presentato questa mattina un vademecum relativo alle nuove sane abitudini da adottare per vivere in modo responsabile la fase post-emergenza sentiamo L'utilizzo delle mascherine, il rispetto del distanziamento la consuetudine dell'igienizzazione sono alcune delle nuove sane abitudini su cui punta la campagna di comunicazione della Regione Emilia-Romagna e del sistema sanitario regionale pensata e realizzata per garantire la salute dei cittadini nella fase post-emergenza Covid-19 caratterizzata dalla ripresa delle attività sociali ed economiche la campagna, che dall'attuale partenza si svilupperà in due fasi fino luglio ha l'obiettivo di dare indicazioni e informazioni ma anche di chiedere ai cittadini di continuare a mantenere i comportamenti responsabili e corretti adottati durante l'emergenza non più eccezioni ma nuove sane abitudini necessarie per evitare che azioni sbagliate possano portare a una ripresa dei contagi l'assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini ha spiegato così la nuova comunicazione Sono abitudini che dobbiamo acquisire nel nostro comportamento quotidiano come appunto mantenere almeno un metro di distanza l'uno dall'altro indossare i guanti soltanto se necessario perché possono essere una seconda pelle quindi dobbiamo soprattutto indossarli nei momenti in cui tocchiamo superfici che non sappiamo se sono appunto contaminate usare la piega del gomito per esempio quando si sottostisce o si sternutisce pulire e disinfettare le superfici che utilizziamo sia a casa che nel lavoro ma soprattutto lavarsi spesso le mani con il sapone accuratamente almeno per 40 secondi oppure utilizzare per disinfettarle il gel a base di sostanze appunto alcoliche poi indossare la mascherina la mascherina protegge ovviamente nella maggior parte dei casi la trasmissione dei droplet ma non solo protegge te stesso ma protegge anche gli altri appunto dalle tue emissioni di droplet non toccarsi mai con le mani il viso e indossare ovviamente correttamente quei dispositivi di sicurezza individuale in modo che siano effettivamente efficaci e torniamo nella nostra città adesso perché sta per partire l'operazione Movida Sicura a Ferrara l'amministrazione comunale ha chiarito quali saranno le regole da rispettare sentiamo prende il via l'operazione Movida Sicura la sperimentazione che il comune di Ferrara vuole avviare in collaborazione con i locali della zona Carlo Mair, San Romano e Piazza Verdi l'obiettivo è quello di garantire a tutti un divertimento sicuro evitando situazioni potenzialmente pericolose per la diffusione del contagio da coronavirus si tratta di un progetto in fase di elaborazione e di condivisione che potrebbe subire variazioni e che dovrà comunque passare al vaglio del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica a cui verrà presentato giovedì 28 maggio già dal prossimo venerdì si accederà nella zona della Movida con un meccanismo di contingentamento degli ingressi tale per cui a tutti sarà garantita la possibilità di mangiare, bere e divertirsi con gli amici in totale sicurezza e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni sanitarie dovute all'emergenza Covid-19 allo studio del Comune e delle associazioni che rappresentano i locali della zona c'è in questi giorni anche un protocollo operativo di sicurezza che prevede ulteriori importanti aspetti organizzativi relativamente alla gestione degli spazi la zona Movida sarà pedoanalizzata nelle serate di mercoledì, venerdì e sabato per l'ultima settimana di maggio e fino a fine giugno 2020 verranno identificati due punti di entrata e due o più punti di uscita alla zona Movida tali da non creare flussi incrociati di passaggio presso i punti di entrata saranno operativi degli steward scelti tra professionisti addetti alla sicurezza e alla vigilanza privata ingaggiati dai gestori dei locali ai quali il Comune si prepara a garantire un sostegno economico per questa fase di sperimentazione ai locali verrà data la possibilità di ampliare le distese e di aggiungere tavoli a quelli già in essere occupando porzioni di carreggiata e altri spazi nel rispetto delle distanze minime da garantire al passaggio dei passanti dei disabili e dei mezzi di soccorso ulteriore step programmato per la prossima settimana è la trasformazione di Piazza Verdi in una zona dedicata al servizio ai tavoli condivisa tra le attività prospicenti che potranno sistemare sulla piazza i tavolini distanziati come indicato dalle normative garantendo in questo modo l'accesso ad un maggior numero di clienti ed evitando assembramenti E adesso parliamo dell'ultimo saluto al professor Gianni Cerioli nella chiesa parrocchiale di Coronella dove oggi pomeriggio si sono svolte le esequie celebrate dal parroco Don Celestino a rappresentare la comunità il sindaco di Poggio Renatico Daniele Garutti alla presenza dei molti che hanno condiviso con il professor Cerioli esperienze culturali e pedagogiche il figlio Tito, fratto, seduto accanto alla barra del padre Antonia, la compagna di una vita poco più in là i familiari, tanti amici e tanti conoscenti in parte dentro la chiesa, molti sul sagrato all'ombra degli alberi che circondano la chiesetta di Coronella che hanno reso meno affoso questo pomeriggio di fine maggio tante persone tutti alla distanza di sicurezza tutti con mascherine e in qualche caso anche i guanti protettivi Coronella, Poggio Renatico e Ferrara hanno dato oggi l'ultimo saluto alla figura terrena di Gianni Cerioli ricordato con una omelia piena di ammirazione umana e di Cristiana Pietras dal parroco Don Celestino Nella mia terra, ha esortito il sacerdote quando muore un uomo considerato un grande dalla sua comunità come era considerato Gianni si dice che è caduto un baobab un grande albero frondoso generoso di ombra, di frutti ricco di proprietà benefiche offerte silenziosamente a chi gli è stato vicino per breve tempo o a lungo è stata questa la metafora che ha incantato i presenti evocando la generosità con cui Gianni Cerioli ha attraversato la vita dedicandosi con vera passione civile all'insegnamento, alla cultura, all'arte alle mille iniziative in cui ha sempre offerto i tesori di una cultura che spaziava quasi in ogni campo del sapere un'omelia, quella di Don Celestino che ha messo in secondo piano per qualche istante nelle tante testimonianze ammirate apparse sulla stampa e nei media e citate da sacerdote di rituale colpo d'occhio di una cerimonia funeva celebrata davanti ad una comunità di amici resi irriconoscibili l'uno all'altro dalle mascherine anti-coronavirus ma che hanno voluto esprimere il loro affetto peggiano di Cerioli estendersi attorno alla famiglia anche in un momento come questo pur nel disagio di doversi parlare soltanto con lo sguardo ma nel rispetto delle misure di auto ed etero tutela imposte dall'epidemia Cambiamo argomento a questo punto parliamo di un sentiero ciclopedonale che collega il porto di Gorino al vecchio faro ora trasformato in una postazione di birdwatching è uno dei progetti in via di realizzazione dal parco regionale del delta del Po dell'Emilia Romagna vediamo un tracciato di circa 3 km che collega il porto di Gorino con il vecchio faro di Goro trasformato oggi in postazione birdwatching è uno dei progetti in via di realizzazione del parco regionale del delta del Po dell'Emilia Romagna abbiamo appena terminato il progetto cartellonistica in cui abbiamo posto in evidenza alcuni punti essenziali del parco punti di maggiore interesse e in effetti anche qui nel porto di Gorino sono visibili due cartelli che indicano uno lo specifico del porto di Gorino e uno invece della sacca di Goro ma stiamo anche lavorando per aderire ad un progetto di PSR piano di sviluppo rurale misura 19 per il miglioramento della fruizione turistica che prevede la sistemazione di un collegamento quindi di un sentiero ciclopedonale che parte da qui dal porto di Gorino e che arriva fino alla lanterna che è appunto un luogo ora diventato di osservazione in passato costituiva un faro un ulteriore faro nella medesima area sistemazione appunto per la fruizione turistica e ovviamente speriamo confidiamo che verrà finanziato un progetto importante non solo per il comune di Goro ma anche per tutto il parco del Delta come spiega il sindaco Diego Viviani presidente del parco questo sentiero che dovrebbe collegare Gorino alla vecchia lanterna il vecchio faro che chiaramente era stato eretto a metà del 1800 e dopodiché nella ritirata della seconda guerra mondiale è stato bombardato e poi è stato ricostruito di recente ristrutturato e adesso c'è un punto di osservazione per bird watching e quindi sarebbe estremamente importante collegare l'abitato di Gorino con questo punto di osservazione creando un sentiero di stampo naturalistico chiaramente fruibile sia in bici che a piedi abbiamo appena realizzato tutta una serie di interventi all'interno del progetto live che vanno a migliorare le caratteristiche della valle di Gorino e quindi prossimamente si potrà notare appunto dopo la realizzazione del sentiero anche i lavori che sono stati fatti e tutto il beneficio che è stato apportato a quest'area e adesso parliamo di calcio perché domani sarà la giornata decisiva per la ripresa della serie A ma a tal proposito sentiamo da Alessandro Sovrani dovremmo esserci le condizionali d'obbligo ma ormai pare proprio che il campionato di calcio perlomeno quello di serie A sia prossimo a partire domani ne sapremo di più probabilmente sarà l'ultima decisione quella che potremo conoscere alla termine dell'incontro che ha convocato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora al quale parteciperanno anche tutte le componenti del calcio si analizzerà logicamente la situazione della pandemia nel nostro paese ma si andrà a guardare quello che è il protocollo stabilito per quanto concenne le partite tutto chiuso per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti di gruppo resta un interrogativo come in merito al protocollo delle gare che è quello relativo alla quarantena per ora sono 15 i giorni a cui eventualmente si dovranno sottoporre a questa quarantena fiduciaria i giocatori qualora uno di loro venga trovato positivo ai test ai quali i giocatori delle squadre di Serie A dovranno sottoporsi ogni 4 giorni ma in questo caso in caso di uno stop di 2 settimane il campionato si bloccherà nuovamente si era ipotizzato il discorso relativo ai playoff ai play out questa strada non dovrebbe essere imboccata quindi si andrebbe in questa malaugurata ipotesi invece al congelamento delle classifiche con titoli e promozioni e retrocessioni che sarebbero assegnate considerando le gare disputate fino a quel punto quando si riprenderà l'obiettivo è il 13 giugno la richiesta che sarà analizzata anche venerdì nel corso dell'assemblea della Lega di Serie A in cui si tireranno le fila dopo la riunione in programma domani sera alle 18.30 tra il ministro e le componenti del calcio e quello del 13 giugno molto probabilmente con i 4 recuperi in programma tra questi c'è anche Verona Cagliari per cui in caso prima dell'inizio del campionato della ripresa del campionato con tutte le 12 giornate restanti Gio Pedro la punta di diamante del Cagliari sconterebbe quella squalifica che avrebbe dovuto scontare invece alla ripresa del campionato quando la spalla si ritroverà ad ospitare proprio la formazione sulla cui panchina farà l'esordio Walter Zenga detto ciò restano tanti interrogativi tanti dubbi ricordiamo che il calcio spererebbe di ridurre a 7 giorni l'eventuale quarantena di gruppo la quarantena fiduciaria ma la commissione tecnico scientifica non è assolutamente di questo avviso anche perché dice perché si deve fare un distingo tra i giocatori e gli eventuali altri contagiati del nostro paese abbiamo detto inizio 13 luglio questa è l'ipotesi migliore il 13 giugno il campionato a quel punto terminerebbe entro luglio con il 28 luglio e 2 agosto date per disputare le gare di Coppa Italia poi restanti poi si parlerà delle coppe europee si giocherà con temperature molto elevate qui è già arrivato un monito da parte del sindacato calciatori sindacato mondiale non si vorrebbe giocare partita alcuna qualora il termometro andasse oltre i 32 gradi anche perché ci sarebbe questo stilicidio di impegni con gare ogni tre giorni e infortuni all'ordine del giorno come testimoniato da quello che sta succedendo in Bundesliga sul cui modello si andrebbe anche in Italia stadi rigorosamente a porte chiuse quindi con i tifosi che sarebbero i più penalizzati con partite come abbiamo visto in Germania in moltissimi casi tutt'altro che spettacolari e adesso prima di chiudere vi ricordo i programmi tv della serata per quello che riguarda questa sera alle 20 andrà in onda campagna amica news mentre alle 21.30 con i piedi per terra oggi domani sera invece sempre alle 21.30 un omaggio a Giorgio Bassani vi mostreremo il video Rolls Royce con un'intervista con un'introduzione realizzata appunto all'assessore Marco Gulinelli e al regista Andrea Forlani tutto questo dunque domani sera 21.30 Telestense che renderà omaggio a Giorgio Bassani vi ricordo anche il nostro sito internet telestense.it e i nostri spazi social come sempre Telestense è presente su Facebook su Twitter e su Youtube e tutte le sere alle 22.30 il nostro tv giornale in onda anche sul canale 518 di Sky e di TVSAT grazie dunque per averci seguito come sempre appuntamento rinnovato alla prossima edizione per averci seguito per averci seguito il nostro canale